ciao ragazze in questo video vorrei mostrare tutti i prodotti che ho acquistato di essence che sono usciti dall'assortimento e quindi sono scontatti in realtà vi ho fatto già un altro video dove vi mostrare tutto quello che avevo acquistato di essence a 1 euro 29 però poi alla fine sono andate in altri ovvi esso visto che c'erano altri prodotti scontatti e che non avevo trovato precedentemente quindi vi voglio mostrare cos'altro ho acquistato praticamente li ho girati tutti adesso non dovrei trovare nient'altro anche perché i prodotti che mi interessavano diciamo sono finiti però c'erano delle delle chicche che non potevo lasciare lì soprattutto a questi prezzi comunque come sempre vi lascio giù nell'info box del link dei prodotti con loro prezzi e nella scheda trovate anche il se vi interessa il link agli altri prodotti che ho acquistato di essence a 1 euro e 29 e anche il link dove vi mostro tutti i prodotti invece che ho trovato scontati di catrice che di solito non acquisto scontati ma poi anche catrice li acquisto meno rispetto a essence però c'era qualcosina di carino e quindi ve l'ho voluto mostrare e niente iniziamo la prima cosa che vi voglio mostrare in realtà è un prodotto per il viso ed è questo qui io questi non li ho mai provati questo è un fondotinta che si chiama gay picture ready sapete che di questa linea ho acquistato sia il scontato il correttore ma poi anche la palettina che mi era trovata bene niente di chissà che cosa l'avevo acquistata dal sito di cosmetic for less però diciamo che non mi trovo male come palettina tutti i giorni comunque questo si chiama appunto gay picture ready long lasting combat makeup instant flawless finish a 9 grammi di prodotto e ho preso la colorazione 20 matte nude a 12 mesi di pao praticamente questo c'ha lo specchietto e la colorazione questa io questa non appunto non l'avevo mai provato l'ho voluto prendere per provarlo adesso non l'utilizzerò perché comunque sto utilizzando un altro fondotinta e quindi l'ho preso solo per vedere come mi si è ritrovata adesso vediamo ho già notato che ci sono quasi delle gocce non so se le vedete di come se fosse prodotto un po sudato ma in realtà non è stato toccato anche perché c'era il diciamo lo scotch perché li ho acquistati da queen e ho visto che i prodotti di essence alla queen hanno tutti lo scotch e poi sotto comunque vedete anche c'è anche la spugnetta che non so quanto utilizzerò e poi sotto ci sono tutti i buchini per lasciare traspirare diciamo un po il prodotto non lo so mi piaceva come come era fatto questo prezzo detto lo proviamo vediamo come mi trovo anche se in realtà se anche i prodotti che sono andati fuori produzione la maggior parte li trovate sempre sia a prezzo intero però non è il prezzo che c'è qui in in italia ma è leggermente più basso essendo l'iva un po più bassa lì infatti di solito li acquisto sempre gli prodotti e poi ho acquistato due accessori che sono questo e questo questo è il pennello per il correttore non lo so era io mi trovo bene con i pennelli di essence i miei primi pennelli sono stati proprio quelli di essence e continuo ad utilizzarli quindi ve li consiglio io avevo acquistato tantissimi pennelli quando era uscita la collezione dedicata ai pennelli so che ne deve uscire un'altra sicuramente li acquisterò perché comunque io mi trovo bene quindi quando ci sono scontati ma anche il prezzo intero ne ho acquistato intanto costano pochissimi prodotti di essence comunque questo qui quindi è molto molto cioè non è troppo morbido ma è adatto appunto per il correttore ed è fatto così mi piaceva tantissimo questa trema così geometrica e quindi cioè mi piaceva sia come era fatto il packaging ma soprattutto so di trovarmi benissimo con questi prodotti perché comunque ne ho uno uno c'è più più pennelli quella collezione dedicata ai pennelli era uscita due anni e mezzo due anni e mezzo fa una cosa del genere e continuo utilizzarli non mi si sono ruote alcuni hanno perso magari nel manico un po il disegnino ma funzionano ancora benissimo considerate che li lavo ogni settimana quindi mi trovo benissimo e questo è un dettaglio del kabuki brush è molto molto morbido sapete che mi piacciono tantissimo i kabuki l'utilizzo per passare la cipria qualche volta anche per il blush ma soprattutto per la cipria anche questo è lo stesso trama dell'altro è molto carino quindi l'ho voluto prendere poi ho preso due due smalti che sono questi due in questi qui che sono della linea glow care ho preso questo che numero 05 love and care e questo che numero 07 keep calm and glow on hanno entrambi 8 mila di prodotto ciascuno e hanno di pao 36 mesi mi trovo bene con gli smaltini di essence questi comunque sono questo un po più nudo questo un po più particolare sembra metallizzato mi trovo bene comunque durano un po di giorni ma non mi piace utilizzare cioè avere lo smalto che dura molto di più di solito la sua massimo quattro giorni quindi per me vanno benissimo adesso che appunto ho lasciato un po le spirale le unghie riprenderò a mettere tantissimi smalti quindi ho visto questi li ho voluti prendere poi ho preso per le labbra un prodotto una mattita che si chiama ultra last lip liner smooth gliding waterproof questa è la 01 lavender blender ed è questa mattita qua questa non l'avevo mai provato e quindi l'ho voluta prendere per provarla comunque a 36 mesi di paura all'interno ci sono 1,2 grammi di prodotto e questa è la mattita quindi la mattita è molto molto morbida che quasi un borgogno ma è più un rosa che da diciamo sul malva non lo so mi piaceva tantissimo e l'ho voluta prendere io tantissimi rossetti che danno su questa colorazione quindi l'ho presa per quello per usarla come base oppure per contornare le labbra ma di solito quando utilizzo le matite le uso prima come base sopra ci metto il rossetto e poi ho preso tantissimi prodotti per gli occhi ho preso altre due di questi matitoni perché sapete che io utilizzo tantissimi matitoni per occhi e di questi ne ho preso uno da poco con i saldi e ne avevo già un altro quindi praticamente mi sembra che sono cinque o sei ne ho quattro quindi praticamente tutti si chiamano 2.1 high shadow and liner waterproof questo nello specifico è la colorazione 03 light me up hanno 3,5 grammi di prodotto e 12 mesi di pao questa è la colorazione un po' che dà sul panna e che io utilizzo sotto l'alcatra sopraccigliare oppure per dare un po' di luminosità al centro della palpebra o addirittura all'inizio dell'occhio quindi nell'angolo interno e questa è la colorazione invece l'altra è un po' più sul nude si chiama 01 go bronze è un nude che dà un po' sul bronzo però è comunque abbastanza nude come colorazione mi piacciono tantissimo queste colorazioni qua e quindi l'ho voluto prendere ed è questa qui poi ho preso ben tre ombretti della linea the metals ho preso questo che praticamente è la colorazione numero 09 all'interno ci sono 4 grammi di prodotto e non 12 mesi di pao io ne avevo già un altro di questo e mi piace abbastanza li utilizzo per dare un po' un look un po' più metallizzato magari metto la base nell'occhio magari sul marroncino oppure una base matte a seconda dell'ombretto che utilizzo e questo li metto o al centro oppure su tutta la palpebra per dare un po' più di luminosità questo sembra un verde non dico acido ma è un verdone che ha una punta un po' più diciamo da verde acido all'interno ed è questa colorazione qua sono quelle colorazioni che utilizzo tantissimo all'inverno che mi piacciono tantissimo che mi vedete sempre anche tipo quella che ho oggi sugli occhi quindi l'ho voluta prendere per quello poi ne ho preso un'altra che appunto è un po' più sul marroncino e si chiama c'è la colorazione numero 02 sono comunque degli ombretti molto luminosi quindi se non vi piacciono le colorazioni molto luminose non ve le consiglio e la colorazione è questa qui c'è l'altra numero 04 ed è un verde petrolio non lo so questa mi piaceva tantissimo perché comunque anche queste sono quelle colorazioni che utilizzo tantissimo comunque sono colorazioni che io so di utilizzare quindi l'ho acquistato per quello anche se in realtà non è che avessi bisogno di ombretti o di altro relativo al make up ed è questa colorazione qua questa mi sembra meno luminosa rispetto agli altri però di quelle colorazioni che mi piacciono quindi non avrò problemi a utilizzare e poi ho acquistato quei kit che sono praticamente dei set duo che si chiamano contouring and shadow set praticamente io non avevo mai acquistato neanche uno avevo intenzione di acquistarlo durante diciamo quando costava una prezzo interno su tutti i Cosmetic for Less però poi non li avevo presi ho visto che erano appunto scontati li ho presi tutti e quattro praticamente sono questi qua hanno 5 grammi di prodotto all'interno 12 mesi di pow e come vedete sono è un duo questo in realtà è il numero 04 coffee in cream hanno 12 mesi di pow si chiamano contouring and shadow set comunque ed è questo qui c'è una parte più luminosa e una parte un po' da contouring come chiamano loro ma in realtà è praticamente per gli occhi non è per fare il contouring però si può fare praticamente se voi volete un trucco un look abbastanza veloce mettere quello più scuro su tutta la parola per l'altro o al centro per illuminare o soprattutto sotto all'arcate di solito utilizzo così diciamo gli ombretti quindi c'è una parte più luminosa è una parte più diciamo da contouring come dice qua adesso vi faccio gli swatch così vi mostro le colorazioni sono comunque diciamo la parte da contouring è abbastanza diciamo è matte mentre l'altra è la parte più luminosa è più illuminante come viene chiamato non lo so sono molto carini sicuramente questo lo utilizzerò o appunto come base oppure appunto per colorarmi tutta la palpe però di solito questi così di essence li utilizzo tantissimo come base avete visto che facevo parte in progetto smeltimento uno di essence che era praticamente bombato perché praticamente era un ombretto cotto e l'ho terminato completamente quindi io l'utilizzo così da tutti i giorni poi gli altri sono la colorazione numero 02 e questa è una colorazione leggermente più chiara vedete questo è l'illuminante e questo è il diciamo la parte da contouring quella più scura e questa la vedo proprio come base sicuramente la utilizzerò come base quando terminerò la base che è nel mio progetto smaltimento e questa è molto più luminosa secondo me questa infatti mi piaceva più dell'altro però alla fine per 1,29 euro l'ho voluta prendere tutti e 4 poi appunto c'è la colorazione numero 01 mauve meets marshmallow questa è quella più chiara in assoluto e praticamente questa dà un po' più solo io vedo anche un po' di rossiccio all'interno quello più scuro invece l'altra è più su un rosato e pur essendo illuminante questo è matte cioè rispetto agli altri che vi ho mostrato prima sono questi due anche questo è più sul rossiccio sembra quasi un malva e l'altro il bianco questo è quello meno scrivente di tutti e poi l'ultimo è il numero 03 e praticamente questo sembra così che la parte più scura dia un po' più sul verdino anche questo in questo caso è matte mentre la parte luminosa è proprio l'un illuminante al contrario dell'altra che sembrava praticamente matte anche l'altra parte qua mi piace tantissimo l'illuminante e le colorazioni sono queste con l'illuminante mi piace tantissimo e niente questi sono tutti i prodotti che ho acquistato di Essence con gli sconti fatemi sapere cosa avete preso voi se avete preso qualcosa di particolare se avete preso qualcosa che sapete già che ha buone performance e che l'avete riacquistato perché c'erano i saldi se è piaciuto il video mettete mi piace e a presto ciao